Siamo pronti? Esteban! È più forte, dai, eccolo lì, Esteban! Esteban! Cambiasso! Esteban! Cambiasso! Lo faccio per il grande rispetto! Ciao, davvero! Benvenuto! E allora, premio intanto vince per la categoria Miglior Talent Calcio in TV con la seguente motivazione per aver trasferito dal campo alla TV la visione di gioco la cura dei dettagli, la fenomenale intelligenza tattica, qualità che gli hanno permesso prima di entrare nella storia con la conquista del triplete e poi di affermarsi come uno dei talent più apprezzati dai tifosi di calcio Grazie, Esteban, complimenti davvero! Prima era solo una sorta di pantomima, io ho la fortuna di fare lo speaker a San Siro per il Milan e quindi premiare comunque un calciatore della mia città mi fa piacere poi adesso è smesso, per cui ancora di più, no? Buonasera a tutti, complimenti a tutti i premiati prima di me non sapete quanto vi invidio perché avrei voluto anch'io passare di qua in silenzio la nuova vita mi fa sì che devo parlare davanti a un microfono bellissimo il video, la clip che hanno preparato non sono stato teoricamente premiato per quello sono stato premiato per quello che mi capita a volte di dire in TV cose giuste, sbagliate ma soprattutto per fortuna cose libere quindi quando uno è libero di poter dire quello che pensa penso che sia una delle cose più belle che ci possano essere senza condizionamenti di nessun tipo per la TV nella quale lavoro, per il mio passato dove credo che la cosa più importante che uno si possa portare avanti è la propria credibilità questa spero di non perderla, di là di maglie, di battute e di tutto quello che ci sta intorno allo sport ma penso che sia la cosa più importante camminare a testa alta con credibilità Senti, grazie Tu ti sei mai immaginato chiaramente a un certo punto che tutti i giocatori possono proiettare quello che può essere la loro vita una volta abbandonato il campo tu avevi mai immaginato di fare il commentatore prima? Beh in realtà il commentatore è già stato premiato altro collega io faccio quello che ho fatto sempre a casa per 25-30 anni che è parlare di calcio davanti a una televisione con altre persone quindi io tra l'altro per questo non faccio né la seconda voce nelle partite non sono uno che tendenzialmente faccia domande agli allenatori io semplicemente parlo di calcio ho tanto rispetto per quello che sono i giornalisti perché hanno studiato molto più di me Beh però tu hai studiato sul campo No ma io non ho studiato quello loro fanno una carriera studiano più di 5-6 anni alcuni per fare questo io ho fatto il mio ho imparato il mestiere che ho fatto per tanti anni con passione io cerco di trasmettere questa passione anche con un microfono in mano come mi capita a volte le domeniche o in settimana con le partite di Champions League però soprattutto io non ho lo scopo di togliere il lavoro a chi lo fa bene che sono i giornalisti che hanno studiato molto più di me io faccio il mio non lo so per quanto questa è un'altra verità perché faccio quello che mi diverte che penso che diverte anche a chi mi può ascoltare ma uno non sa mai qual è il punto d'arrivo quindi per adesso mi godo quello che faccio e come ho detto prima sono felice di farlo in un posto che me lo fanno fare con molta tranquillità e poi vedremo non l'ho immaginato ma non l'ho nemmeno scartato mai in vita mia di farlo quindi per quello lo sto facendo Ecco che poi Germano io stavo ragionando su una cosa sul calcio femminile che nell'ultimo periodo è diventato davvero molto più seguito è diventato quasi un fenomeno non so se è giusta questa parola Germano naturalmente Esteban cosa ne pensa tu sei stato anche ambassador del mondiale insomma quindi forse è un fenomeno secondo te o è qualcos'altro speriamo che sia stato un lancio di una realtà diciamo perché un fenomeno tante volte accade e poi sparisce quindi l'augurio è che non sia soltanto questo ci sono tante ragazze anche giovani che vogliono giocare quindi avere la possibilità di giocare libremente non essere più guardate come dire che stanno facendo come se facessero qualcosa di strano semplicemente amano uno sport che prima lo giocavano quantitativamente molto più gli uomini e oggi hanno la possibilità loro di farlo con la felicità che comporta fare uno sport con passione io mi auguro che possa continuare così che il boom sia stato questo mondiale che la FIFA veramente ha fatto un lavoro straordinario ma che si possa continuare come si continua in ogni paese diciamo la serie italiana sta crescendo così come anche i campionati minori e speriamo che i settori giovenili siano pieni dei bambini che vogliono giocare che possa diventare come sta diventando quindi è una grande realtà peraltro la scuola che hai fondato con Zanetti va proprio in questa direzione insomma quindi per noi inculcare questa passione nelle nuove generazioni è che siamo tutti uguali diciamo al di là delle cose che possono accadere a volte che qualcuno vuole farci sentire che non lo siamo siamo tutti uguali e quindi dare la possibilità a tutti di giocare di dimostrare di scendere in campo con passione di fare quello che uno ama se sei più bravo se sei meno bravo se sei uomo se sei donna se sei nato qui se sei nato altrove quindi queste non sono differenze noi cerchiamo che tutti quanti si possano divertire tramite dei valori che continuiamo a dire che nonostante a volte possano capitare cose che non ci piacciono lo sport trasmette dei valori importanti e noi ci teniamo a cercare di trasmetterli complimenti abbattere le differenze effettivamente lo sport grazie a Esteban ormai fa parte di te il microfono quindi te lo regaliamo grazie grazie per la disponibilità grazie 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 grazie